Bentornati sul canale, questo è un nuovo episodio di From Zero to Hero. In questo episodio, come vedete, andiamo a provare Tier, o almeno commentare delle partite che ho fatto con Tier. Ho preso, diciamo, la lista che è arrivata prima al German Open, perché ero curioso giusto per provarla, e devo dire che è molto forte, anche se probabilmente migliorerei il going second di questo mazzo, per lo meno di main, perché non avendo nessun tipo di interazione, a parte Avnis, Tier Kastira, andando secondo, è un po' un problema per me. Andando primo è veramente fortissimo il mazzo, andando secondo magari, non so, incominciare a giocare Impulso di main, Super Poli, queste carte qui comunque possono aiutare. La side poi va in corrispondenza, quindi appunto giochiamo Impulso, Super Poli, al posto di Spolverino c'è Scattershot, insomma, però su un DB non essendoci il tempo, ha poco senso giocarlo. E poi di extra, ho giocato per le prime partite Red Oer, però ho sentito la mancanza di Typhoon, e quindi non avendolo mai fatto Red Oer, ho provato a togliere Red Oer e ho messo Typhoon, però comunque c'è sempre quel dubbio, quindi prendetele con le pinze questo. Allora, questo è il primo replay, allora qua vinciamo il dado, e partiamo prima. Ok, allora qui, parto primo, qua ho una mano molto fragile, se lui mi avesse fatto Ashe su terreno, passavo senza nulla. Qua aggiungo Shiren, perché comunque ho la possibilità di fare Shiren, scarto Shama, e spacco Sugliac, faccio un po' di giocate, insomma. Qua faccio, beh, Swamp, aggiungo Poli, per evitare di millarla. Qua faccio Shiren, Shiren, Millo Malicious e Tarkashtira. Tarkashtira si prende Ashe, va benissimo. Anche perché c'ho Shama, spacco Sugliac, prendo Reino. Qua faccio un'arma a Reino perché voglio giocare attorno a Nib, ok? E giocando attorno a Nib faccio prima Rucalos, dato che c'ho su un palcimitero. A quel punto faccio Malicious, Malicious e Shama fanno Beatrice. Ok? A quel punto faccio Beatrice, mando nome, con Avnis, cioè con Merli e il pezzo faccio Mud Dragon. Mud Dragon qua faccio Bamut, così c'ho le legazioni di Todde, faccio SP con Bamut e Shiren. C'ho un board abbastanza solido, pressoché ribaltabile. Mi per scadrò il come sesta, giungerò un Giang qua, ma c'è poco da fare. E ho qua special modo, io glielo bucco subito. Mando a Avnis, con Avnis avevo questa Pelia, così mi tengo l'interruzione di Kaleido anche per dopo, eventualmente con Beatrice qua a Dmit. Game 2, parto una mano abbastanza scarsa, purtroppo. E niente, lui fa Adara, qua fondamentalmente fa full combo, quindi vabbè, metto veloce. Qua, se avessi pescato Nibiru perché l'ho messo, avrei sicuramente vinto perché non ci gioca attorno. Quindi, qua fa full combo proprio. Qua, lascia fare tutto qua, gli facevo Nibiru e diciamo che è la bella che è finita, però vabbè, non lo pesco. E pesco Tjarkashtira, c'ho una mano abbastanza gialla, c'ho due carte morte. Eh, faccio Zuliaq, Zuliaq qua, prendo Reino. Qua faccio normal Reino, vedere cosa mi fa, fino a fuori in Permanence. Eh, qua difficile perché c'ho... Faccio Tjarkashtira, se mi fa, qua basta, concedo. Comunque c'ho solamente Planet che me la banna con quello. Niente, ora vado primo G3 e parto una mano fortissima. Lui c'ha Evely ma non basta contro questa mano. Anche perché di base metto sempre Crime Toad, se parto full, così. Quindi qua niente, faccio prima Swamp perché voglio togliere la possibilità di pescare Poli, perché non è troppo ideale, insomma. E... qua faccio... decido di fare Shelen perché ho la possibilità appunto, beh, di mandarmi Reino, evocare Reino, mandare Zuliaq, fare vantaggio. E incominciare a... a mettere body in campo. E... con Avnis qua vado sempre a fare Mud Dragon perché mi dà troppa sicurezza a fare prima Toad, di tutto. Quindi faccio Bamut, evoco Toad. Esatto. Qui faccio Tarkashtira, Milo 3, Milo Merli, Zuliaq che ho già fatta. E... qua faccio Garura perché c'ho la possibilità di fare... di fare Shiano dal cimitero. Faccio Metanoise, mi riaggiungo Tarkashtira, sì, ci sta. E... a quel punto, vabbè, faccio Beatrice. Qua faccio pure lo zombie. Che ci sta per vedere cosa Milo e poi in seguito, di conseguenza, faccio Beatrice. Qua gli evoco Pankratops perché gli Milo Pankratops e di Scream aggiungo Crime. Così poi di Beatrice stacco Garura, mando Sheren, metto giù il tier per poter attivare Crime. Di Garura pesco la carta che eventualmente vado a scattare di Crime. Niente, quindi questo è il board abbastanza irribaltabile. Qua lo aggiunge, cerca di forzarmi un attimo le negazioni, va a desario, qua gliela niego con Toad. Perché secondo me ci sta. Poi vabbè, entra in battle, fa Evely, gli faccio Crime e concede ovviamente. Questa è la seconda partita, esatto. E vinciamo ancora il dado, siamo contro Centurion. E... Allora, qua partiamo di MC di scarto Swamp e ci fa Ashe, il che ci sta. Faccio MC di faccio Zombie qua e si prende Vayler. Io qua ho deciso di andare prima con Zombie piuttosto che con Reino perché con Zombie volevo vedere cosa mi lavo e poi con Reino andavo a decidere se mandare un nome oppure mandare Tiercash Tira. Poi prendo pure Vayler, faccio Reino. Comunque faccio un board sicuramente forte. Perché con Avnis avevo la possibilità di fare Rul Kalos SP o Toad SP, però penso che chiede che Toad sia meglio in campo perché è un home in the gate molto forte. Qua c'è Toad e faccio... anche perché mi dà ripartenza, mi dà reino in mano. Qua gli banno Vayler perché eventualmente se lo può rievocare con Selene se gioca... Se gioca tipo Resk così, Far King, gioca Selene, ci sta a bannare. Qua fa Trudea. Io decido di fare... In catena di attività io decido di fare SP perché lui poteva farmi Typhoon. E quindi decido di fare così perché... Perché se lui poteva... Se lui mi facesse Typhoon, poteva fare Typhoon, attacco Toad. Cioè attacco SP. Forzo Toad. Poi fa stand up, scarto, mette Primera, fa 8 in questo caso. Comunque ho messo malino però. Qua fa Primera. Sì, qua lo costringo fondamentalmente a fare delle giocate abbastanza alternative per togliere Toad. Lui qua fa Legatia che però non può attivare perché c'è Toad, se non nego io glielo prendo. E qua faccio Toad, mi prendo Reino. Niente, in end setta 1, in end attiva Legatia, si mette Primera. In end torna Trudea. E passa. Io vado in Main qua. E in Main incomincio a evocare tutti gli Horus perché c'ho Sarcofago. Ok, così Phalanx diventa sempre più scarsa. Perché se c'ho gli Horus a terra, se lui mi leva qualsiasi mostro partono Happy, parte Glory. Qua gli forzo la Battle. Fa Primera. E... C'è mio attacco. Va bene, mi fa Berserk, va bene. Qua faccio Normal Reino per forzare un attimo. Cioè se lui mi fa questo in Catena Reino, parte Glory, Happy... C'è il casino. E... Qua mando Tiercash Tira. Tiercash Tira, Milo, Sulek e Maligius fortissime. E giungo Tiercash Tira. Qua entro in Battle. Gli levo... Con Sarcofago Quell, poi in Main 2, diciamo, incomincio a fare le giocate importanti. Faccio Darko, Darko, prendo Berserk. E... E diciamo che... Vabbè, che qua faccio Tiercashia, Tiercashia, Milo, tipo... Fai testa, Milo, Earthbit... Earthbit, Scream, Merli... Niente, qua concede ovviamente. Ok. Ehm... Noi partiamo G3... G2 questo, sì. Partito lui. Lui parte una mano fortissima, perché c'ha tre Flexpot, c'ha due di Croash, Bike e partenza Centurion. Fortissimo. Infatti lui, andiamo veloce, fa full combo e partendo fondamentalmente con Barone. Barone, poi fa full combo Centurion. Fa stand up, stand up, scarta Ashe. Di conseguenza io ho detto, ok, potrebbe avere la seconda Ashe in mano. E quindi di conseguenza di Spolly poi ho scartato Inseti. Perché inseti... Ok. Allora io qua pesco... Pesco Guz, non mi pare. Sì. Che comunque... Non è male. Ehm... Allora qui... Io evoco Special Ferry. Sì, va bene. Lui sull'evocazione fa Primera Trudea. Ehm... Primera Field, va bene. Insomma, lui evoca Emmett per recuperarsi Trudea. Qua fa... Qua fa Crimson. Io in risoluzione faccio Ferry perché voglio forzare un attimo Barone. Tanto prima o poi lo devo forzare. Il targhetto Barone, lui lo nega, va bene. In risoluzione attiva Crimson, io gli faccio Super Polly. Scarto Inseti appunto perché voglio giocare attorno ad Ashe. Faccio Muldragon. A quel punto faccio Guz. Mando Sulieck perché c'è tanto c'ho già per Reino quindi non mi serve mandare 3 di Karma. Prendo Reino. Poi faccio Swamp. Prendo Poli. Ok. Qua faccio Normal Reino per vedere cosa c'è. Magari c'è Ashe, non so. Faccio Avnis e lui mi fa di Dicro. Questo ha fatto un malino però c'è ancora un po' di giocate. Quindi a quel punto faccio Bahamut perché penso se lui ha scartato Ashe potrebbe avere Ashe in mano, no? E quindi se io mi prendo Ashe Super Rhyno con Muldragon e Reino fa molto male. Non mi costa niente fare prima Toad di questa giocata qui. E quindi preferisco avere Toad così che eventualmente posso negare Ashe e comunque settarmela sul mio field per poi fare comunque fusione con Polimentazione. Eventualmente fare Chimera, no? Quindi perfetto. Qua faccio Poli perché voglio fondere tutto, tanto che con Toad vado a recuperarmi una carta. Con Sharen vado a fondere e poi con Chimera vado a spaccare due e pescare una. Quindi qua faccio Chimera. Faccio Chimera, Sharen, Toad. Lui mi fa di Dicro su Sharen. Un altro secondo, dico va bene. E qua pesco Tia Kastira, fortissima pescata. Infatti adesso faccio Tia Kastira. Ci penso un attimo se farla ma ho intravisto una linea molto forte. Nel fare Darko, Sprint, Sprint evoco Kaleido. Gli rimischio... mi spacco Kaleido. Comunque faccio Tia Kastira, Milo 3, Milo Tia Kastira, Trivicarma e impulso. Milo 3, 2, Milo nulla. Niente, faccio Trivicarma e mi aggiungo una trappola. Aggiungo Metanoise. E vabbè, rimbatto, l'attacco, attacco. E adesso stavo valutando se rischiare la giocata. Quindi o faccio 6, 7 Metanoise, passo. Però ho detto, lui mi ha già fatto full combo. Ho fatto combo samurai, mi ha fatto combo centurion. Mi ha tirato due corvi. Ha in mano la partenza che ha giunto prima di Primera. Quindi non conosco una carta. È una carta che può essere Engine. Non per forza deve essere un'altra H.T. E quindi ho detto, vabbè, ci provo. Faccio Darko. Darko prendo Corvo. Poi con Corvo e Darko faccio Sprint. Ok, con Sprint mando Merli. E qua concede, ma avrei fatto appunto... Io ho continuato a giocare, avrei fatto Merli. Avrei fatto Kaleido. Kaleido spacco... Rimischio... Rimischio Wakawoshi. Per Rhyno mi spacco Kaleido. Kaleido mando... Mando Scream. Aggiungo l'altra trappola e... E diciamo che... È bella che è finita. Diciamo che... Che abbiamo avuto la mano forte, quindi... Ok, questo è il terzo match. Ok. Allora, partiamo secondi qua. E... Lui parte con una gran mano, ma io c'ho... Avnis. E niente, lui prende Street. Fa Sleepy. Sleepy, carta Storm di Main. Ok. Quindi faccio Avnis. Di Avnis millo... Sulek e Modora. Fortissimo. A quel punto faccio Sulek. Prendo Tierkastira. Attivo subito Tierkastira perché ho molte cose che possono millare, che possono darmi veramente un vantaggio assurdo. Millo un altro Keldon. Niente, lui fa Lily. Prendo... Prende... Delicius. Qua fa Plump. Attiva Lily. Gli rimischia i target. Fa Plump. Gli rimischia gli altri target con l'altro sceffolino. Niente, qui setta due. E passa, insomma. Niente, io pesco pure M7, quindi... Qua fa... Fa Noir. Pesca un'altra. Però c'è una mano veramente troppo forte. M7, scarto Trivikarma. Aggiungo... Sarcofago. Aggiungo Planesi, Trivikarma. E... Faccio Scream. Comincio a mettere pressione. Faccio Reno Scream. Lui fa Noir. E... Mi toglie Scream. Il che va bene. Faccio Sharen. Faccio Moon Dragon. Qua faccio Bahamut. Attivo Bahamut e mi fa Impermanence. Dico, va bene. Qua faccio Planet. Me lo spin ancora con Noir. Però qua le interruzioni poi sono finite. E qua posso fare tranquillamente... Incomincio a togliere la roba. Faccio SP. Gli tolgo quella. Poi faccio Sarcofago. Qua posso scartare tranquillamente Merly. Mando Inseti. E... Perché c'è... Perché lavori mischiato con Moon Dragon, giustamente. E... Qua faccio Zombie. E... Niente, Milo 4. Milo pure Metanoise. Ci sta. Qua... Evoco Reino. Perché così... E aggiungo Avnis. Così lo play con Sulek. Mando Reino e faccio doppia fusione. Niente, qua glielo lascio lì. Lui non attiva Terra e non so perché. Attiva una magia. Ok, io faccio Sulek poi in risoluzione su Nixies. E... Di modo da... Diciamo poter fare doppia fusione. Qua non ho avuto modo di scrivergli... Cioè, era quello che volevo fare. Di fare uno Reino e due Apniss. Però non ho avuto il tempo di scrivere che mi ha tirato subito Ashe. Quindi, beh, giustamente così. Faccio... Niente. Caleido. A quel punto avrei avuto un... Un... Stapedia in più. Che poco contava perché tanto mi avrebbe fatto... Comunque Street, eccetera. Qua... Ho aggiunto comunque 3, però... È comunque difficile ribaltare un board così. Anche perché Zeus... Non è una soluzione, dato che comunque mi fa partire... 13.000 effetti Zeus, quindi... Io faccio in catena street... Niente. Niente qua... Non mi... Non... Non itta niente... E qua concede perché comunque ho troppa troppa roba. E... 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 Pesco pure Swamp... Ma sottofissure non posso fare proprio niente. Quindi... Niente. Adesso andiamo a G3... Che è un po' particolare perché lui pesca Shifter... Eh... Pesca Shifter... Però non me lo tira subito. E quindi io con Inseti Glory... Posso incominciare a fare... Anche un po' di vantaggio. E... Faccio Trippi Karma... Lungo Planet... E qua... Mi fa Shifter... E... Vabbè... Dico va bene, qua non ho senso committare... Assetto giusto metanoise passo... Sperando non ci abbiasci in mano... E vi in Italia ne ha ben due... Eh... Mi fa... Mi fa Prosperity... Sperando non arrivi l'Istorm... Ehm... Però va bene... Ehm... Qui aggiunge... Gatto Bianco... Ehm... Rivela... Ehm... Priti... Che comunque... Non è male... Ehm... Niente... Qua mi aggiunge Happy... Ehm... Io ho detto... Vabbè c'è un metanoise... Sono abbastanza... Coperto... Qua gli lascio fare tutto... Qua probabilmente dovevo farlo in catena... Ho detto... Vabbè... Aspetto un attimo... Di... Per fare... Cioè aspetto dopo... Però ci poteva stare anche in catena... Gli davo un materiale in meno sicuramente... Qua in catena attivo metanoise... Perché se no me la rimbalzava... Mi fa Ash comunque... Mi rimbalza la field... Qua evoca... Gatto nero... Aggiunge Street... Non ho capito perché... Mi ha fatto riaggiungere più a Rhino... Sinceramente... Qua aggiunge la trappola... Mendole tutta la trappola... Nendole... Mette... Mette Sleepy... Secondo me poteva fare molto di più... Ehm... Qua potevo pescare letteralmente... Una carta tier... E stavo proprio bene... Bene... Però non... Non l'ho pescata... Ehm... Lui ha pescato droll... E io qua... Faccio planet subito... Faccio... Sarcofago... E lui me lo... Me lo sciaffola... Poi faccio planet... Se qua me l'avesse spinnato... Avrei letteralmente perso... Non me lo spinna perché... Perché c'ha droll in mano... E vuole fare droll... Qua prendo Merly... Al posto di Rhino... Perché... Ehm... Ho detto... Se mi nega Rhino... O comunque... Cioè... Merly... È più forte secondo me... Perché c'ho Poli... E con Poli... Posso... Posso fondere due volte... Cioè posso fare... Appunto... Rulcalos... E poi posso fare un'altra fusione... Con Merly... Quindi la mia idea era quella... Qua me lo sei... Ehm... Me lo tiar cash tira e malicius... Faccio... Comunque tiar cash tira... Perché tanto eventualmente... Non lo posso sciaffolare... Qua me lo sciaffola... Ehm... Qua probabilmente... Mh... Sì... Faccio planet... Qua sbaglio... Non dovevo attivare malicius... È inutile qua attivare malicius... Perché avevo in mente un'altra giocata... Però... Tipo... Chimiera però era sto droll... E quindi non potevo farla... Cioè... Quanto meno non potevo attivare l'effetto... E quindi vabbè... Decido di fare comunque... Polimerizzazione... Faccio... Tranquillamente rule calos... Poi faccio Merly... Faccio Merly... Merly... Ehm... Malicius... Avrei potuto fare... Ehm... La fusione hero... Scartare scream... Ehm... Ehm... Mandare... Cioè no... Scartare niente... Rimuovo malicius... Evo quell'altro malicius... No... Si scarto... Mando malicius... Faccio beatrice... Ehm... Ehm... Qua però... Io hito... Hitto reino con scream... Qua bastava... Mi dare un'interruzione... Anche caldo e mudora... Erano forti... Ehm... Milo reino... Ed è finita qui la partita... Perché c'ho... C'ho... C'ho scream in mano... E... E niente... Finita così... Il mazzo è veramente forte... Anno primo... Molto forte... L'unica ht che fa veramente... Veramente tanto male... È shifter... Ehm... Le altre comunque... Il mazzo gioca abbastanza bene... Il going second è un po' così così... Va migliorato... Però... È sicuramente un mazzo solido... In onore dei vecchi tempi... Ehm... Niente... Questo è tutto... Per... Per questo episodio è tutto... Ci vediamo al prossimo...